Il prodotto più originale di Cosmopharm, questo braccialettino contenente la propria cartella clinica, una speciale chiavetta elettronica, per le signore anche con i brillanti. E soprattutto se sono all'estero è in lingua, rispetto a dove mi trovo, quindi è tradotto in 57 lingue nel mondo. È un cervellone! Sì, è tutto raccolto qui.